C'è una dolce ragazzina, forse ancora un po' bambina, con due occhi neri neri, malucenti e molto fieli. Che vuol proprio realizzare il suo sogno e diventare un'attrice preparata, molto brava ed affermata. Maia è difficile, tu lo sai, ma come sempre insisterai. Maia non ti arrenderai e dalla fine ci riuscirai. Maia, ma il tuo sogno realizzerai ed un'attrice diventerai. Non è facile studiare, imparare a recitare, maia sa che per riuscire, lei dovrà saper soffrire. Per fortuna molti amici, così anche i sacrifici, a lei sembrano leggeri e ne affronta volentieri. Maia è difficile, tu lo sai, ma come sempre insisterai. Maia non ti arrenderai e dalla fine ci riuscirai. Maia il tuo sogno realizzerai ed un'attrice diventerai. Per riuscire nella vita si fa sempre assai fatica, è una legge universale che per ogni uomo vale. Maia il tuo sogno realizzato, per il quale ha lavorato, un'attrice diventata, preparata ed affermata. Maia è difficile, tu lo sai, ma come sempre insisterai. Maia non ti arrenderai e dalla fine ci riuscirai. Maia il tuo sogno realizzerai ed un'attrice diventerai ed un'attrice diventerai ed un'attrice diventerai. Maia il tuo sogno realizzerai ed un'attrice diventerai ed un'attrice diventerai. Maia il tuo sogno. Per frequenza diventerai ed il sogno reale. Maria il tuo sogno. Fa la prima che ha fatto nessuna banda, Grazie a tutti.